Ma non ce lo facciamo uno spiedone di pesce dentro il TG Dual di Tecnogrel, ma facciamocelo sto pesce ogni tanto, no? Tiè, va che bello il pesce! Salmone, merruzzo nordico, spada, capessante, seppie, codri mazzancolle, fish dry rub di MNQ, olio e salvergine d'oliva, lime, facciamo marinare e poi cuociamo. Pronti a fare gli spiedini? Vedete che cosa sto facendo? Sto alternando pezzo dopo pezzo lungo tutta la mia spada del TG Dual di Tecnogrel. Inseriamo anche il secondo spiedone senza scottarci e lo facciamo partire. Finita! Assaggiamo.